Grigory Mamurin è il nipone di un miliardario di news, su YouTube è diventata una vera e propria star, una vera protesterla. I suoi video infatti vengono visitati da migliaia di persone e molto spesso riescono a divenire girari soprattutto nella sua nazione. Ma per quale motivo Grigory Mamurin si diverte a prendere in giù le persone, ad umiliarle tutto grazie ai soldi della sua famiglia, infatti nei suoi video propone cose veramente assurde a dei passanti per strada, offre loro molto denaro in cambio, tutto per esaltare i suoi vogli di dominio sulle altre persone grazie ai soldi. Inutile dire che la maggior parte delle persone fermate per strada accetta di fare qualsiasi cosa, nessuno riesce a rinunciare al potere del Dio denaro e alle offerte molto generose del fanciullo che paga sempre in contanti alla mano. Così ragazze avvenenti sconosciuti decidono di doversi reggisendomi in mezzo alla strada, di saliarsi in pezzone con il calcolo di un'automobile, qualcuno addirittura accetta di bere la propria urina. Le offerte sono veramente cospicue, 2.000 euro in contanti, non meno di 2.000 euro in contanti, come ricompensa. Vi ringrazio per l'ascolta, a volte il denaro veramente ottene brano mente e qui ne è un esempio completo e valido.